Noi abbiamo un'associazione che si chiama musica.org Che è sponsor del podcast Per questo diciamo Come no? Possiamo dire nomi che non pagano questo spazio pubblico Allora lo tagli No, mi fai un bonifico post-atac Il musicista che avanza presenta Live Therapy Il primo podcast dal vivo che indaga sulla vita dei musicisti nell'era dell'internet Ideato e condotto da Frank Martino C'è stata una rivolta di una piccola minoranza di criceti svedesi Che hanno detto no, non ci includi nel saluto E allora ho dovuto cambiare Non è più buonasera a tutte, buonasera a tutti Ma è salve Questo è Live Therapy È un podcast dal vivo che è condotto da me Che sono Frank Martino, musicista E qua qualcuno dice sempre C'è sempre qualcuno che fa la faccia Io vi vedo poi nel post Ma soprattutto amministratore della pagina Il musicista che avanza È una pagina ironica Ma stasera non siamo qui a far ridere nessuno Nessuno qua Anzi si piagne Si piagne Si riflette Si riflette È un podcast catartico Cioè che alla fine tu esci E capisci delle cose Forse, forse Non lo so Stavo dicendo Il mio pippone iniziale È che oggi è la puntata di Natale È la sesta puntata E siamo tutti un po' così Un po' free Un po' Vuoi dire qualcosa? No, che aspetto il panettone io Un pandoro C'è un pandoro Dopo Non so se sai Che la stagione andrà avanti Ho già programmato fino ad aprile Ti devo dare le date Dopo Perfetto Perché questo è l'unico locale In cui il musicista arriva Il musicista In questo caso il podcaster Arriva Fa la programmazione E poi comunica le date al gestore Pensate Come stia È incredibile È una cosa incredibile Comunque Abbiamo la co-conduzione Gli ospiti Due persone che parlano Nel frattempo Si fanno i cazzi loro Totalmente I discoli Poi ti diciamo perché Ma io posso avere un po' di Prosecco No Un po' di cavo No Il cavo è tiratissimo Aspetta No, no, no No, prendo un pezzo del suo Ecco Poi avvio No, posto, posto No, no Ecco Allora Questo podcast è diventato Diciamo simbolo Della Della comunità Della Della Dell'associazionismo Direbbe il mio commercialista Perché Sono partito da solo Ma ogni volta Gli ospiti dicono Io voglio tornare Voglio tornare Quindi una volta C'è stata La prima puntata C'è stato lui Che è Paolo Grillo Amministratore Giovanni Allevi Allevi con l'H Scusate Se no si pensa Che è quello Del povero pianista Che torna Adesso lui torna Random Come co-conduttore Vengo a mangiare A mangiare Ha capito che qua Si mangia e si beve Io volevo Volevo venire a sentire Poi mi ha detto Di salire Quindi va bene A condurre Va bene così Poi Tra i vari ospiti C'è stata anche la nostra Ilaria Fantin Che è tornata anche lei Buonasera Ilaria Giusto No no Alla fine Se la cava Quindi Scusate Questo piccolo momento Sessista E Poi l'altro Qualcuno Starà dicendo Vedi lei che ride Vittima del patriarcato Giusto Quindi sessista È chiaro Quindi sessista Più di noi E Basta Non dico altro E introduco Il nostro ospite Della serata Che è il maestro Alessandro Feidrico Già tra noi Buonasera Alessandro Ciao Ciao Bassi Ti introduco io Poi ti descrivi da solo No è il maestro Che mi crea sempre Qualche problema Era così Diciamo Per ben disporci Maestro sarà lei No ma guarda Ti hai presente Quando sei In gruppo musicisti Qualcuno dice maestro E si girano tutti Sì Ecco quello è Più o meno Il concetto Bassista Compositore Produttore Producer Non so Non so Lo dico io Producer Direttore artistico Sì È presidente Attuale Mio presidente Attuale presidente Di musicisti italiani Di jazz Che è l'associazione Diciamo di categoria Midi Midi Che è l'associazione Nazionale Perché non va bene Musicisti italiani Perché sarebbe La sigla è Musicisti italiani Di jazz Infatti c'è un problema Che qualcuno dice Mid J Sì Ma noi abbiamo deciso Di pronunciare midi Ma sarebbe Mid J Cos'è jazz E cos'è filologico E cos'è corretto E cos'è Midi ci piace Va bene Perché poi i midi Sono quelli Io sono sempre confuso Con i midi Quelli delle tastiere I midi file I midi file Ma i midi file Sono belli Secondo me Io sono a favore Dei midi file Tu sei pro Assolutamente Pro sempre Io sono contro l'audio Si risparmiano Un sacco di soldi Vorrei dei player Di midi file Che tu appunto Ti leggi Con il tuo telefono Con i dischetti Esatto Si risparmiano Un sacco di soldi Per i musicisti Di righe leggere Di uni di zeri E con cui Puoi ascoltare la musica Beh Potremmo lanciare Questa Nuova moda Per Per il futuro Cioè oltre lo streaming Esatto Musica elettronica Per molti jazzisti È musica elettronica Musica digitale Proprio pura Zeri e uni Basta Chiudiamo qui Grazie È stato veramente un piacere No controllavo sempre Che i registri Ogni tanto fa Dei pacchi Allora Diciamo che ogni puntata Inizia in modo Un po' standard Perché questa Non è un'intervista Qualcuno potrebbe pensare Che un'intervista Ma non è neanche Una conversazione È una terapia di gruppo In cui giustamente L'altra volta Ilaria diceva Ma l'ospite L'altra volta Non aveva problemi È vero Non aveva zero Passava benissimo Ma in realtà Non è un problema Perché i problemi C'ho io Sì Abbiamo capito Che siamo tutti qui Per Frank Esatto Siete tutti qui Per me Grazie Anche loro Che parlano Però ecco Quindi è una terapia Non è un'intervista Però solitamente Iniziamo sempre Con la domanda Cioè una domanda Di partenza Come hai iniziato A suonare E perché E se è stato il basso Perché è proprio il basso No La storia è più lunga Perché Perché mi ricordo Che quando andai In prima elementare Avevo una maestra Fantastica Per qualche mese Che è stata una supplente Veramente illuminante Che ci ha portato Suo fratello Cantautore In classe E io su questa cosa qua Ho detto Ma è una cosa fantastica Questa cosa della musica E poi ho chiesto a mia mamma Voglio suonare la batteria Mi ricordo Andavo in una scuola di musica E mia madre Vide la batteria E disse No Non si può fare Devi scegliere un altro strumento E allora ho detto Ok Suonerò la chitarra E Solo che mi scrisse In una scuola Di chitarra classica Per cui andai per un po' E poi abbandonai E poi a 17 anni 16 anni 16 anni E La Rai Trasmetteva I concerti Di Umbria Jazz Alla fine degli anni 80 Di notte E vidi Miles Davis Dell'85 A Umbria Jazz E E mi sembrava Un UFO Capito E da lì Vidi il basso Mi compra il basso E via Ho cominciato a suonare C'era Marcus Miller No C'era Daryl Jones Ok Ho capito Però era Cioè Ascoltata adesso Quella musica È molto semplice Perché verso il funk Tutto elettrico E anche Magari non mi piace neanche Però al tempo Mi ricordo che mi fece Un effetto Veramente Che mi A parte lui Vestito tutto metallizzato Tutto strambo Con la tromba rossa Così Però mi fece un effetto Veramente Che mi sembravano Gli UFO Capito E io siccome sono molto appassionato Di fantascienza Questa suggestione Mi Cioè Voglio fare quella roba lì E via Hai fatto il conservatorio poi? E poi molto più tardi Perché al tempo I conservatori non c'erano E per cui ho fatto il conservatorio Qui a Vicenza Nel 2005 5 6 5 6 Sì E ho fatto tutto il percorso Insomma Ma quindi prima hai suonato da solo? Cioè E per cui E prima andavo a lezione Da alcuni soggetti Che insegnavano Tra l'altro Insegnavano Cioè un po' Pioneristica La cosa del basso No? Al tempo Soprattutto Io volevo suonare jazz E mi piaceva il basso Comunque Ho fatto queste lezioni Ho fatto un mio percorso Ecco mi ricordo che fu molto importante Perché andai a Venezia Dei corsi Il suono improvviso Si chiama Si chiama questa scuola E andai a fare musica d'insieme E qui un altro momento Molto importante Della mia Vita musicale Fu che non c'erano bassisti Per cui io facevo Tutti i corsi di musica d'insieme Tipo in un giorno Facevo Sei ore Capito? Classico E l'insegnante era Pietro Tonolo Ah E Pietro Tonolo Mi ricordo sono a Mon Blues La prima volta E tutti fanno Sai l'assolo Erano in tanti Poi faccio anche io La mia improvvisazione Alla fine E poi Finisce e fa I bassisti Non dovrebbero mai fare Gli assoli E da lì è cominciata La mia attività La tua passione Gli assoli Esatto Sono stato battezzato Solista Peraltro io ho insegnato Due o tre anni Al suo improvviso Qualche anno fa Qualche anno fa Quindi non ai vecchi tempi Però ho presente la scuola E niente Basta Grazie Basta Posso andare No mi è venuto in mente una cosa Perché siccome ho parlato di Miles Davis Anni 80 La È il periodo della fusion No? Sì Sì Secondo te come Cioè quella musica lì Ha avuto un senso alla fine? Bah Perché scusami Sicuramente allora Era una sorta di Innovazione No? Cioè comunque aveva un senso Secondo me per il periodo Per come è nata Non so Criticando niente Però poi secondo La mia percezione È che si è invecchiata un po' male Sì Cioè Non ha avuto O forse il jazz Diciamo Ha avuto un ritorno Ad un sound Diciamo Di un tipo più tradizionale Non tutto diciamo Sì però dai Non funziona più Lo fusion No no Funziona nelle sagre A giornale radio Che ci metti? Scusa Eh appunto Esatto Cioè È una cosa Da colonna sonora O porno O giornale radio Anche pubblicità della radio Cioè aveva questa cosa Molto ottimista Secondo me Cioè La fusion La fusion era molto ottimista Erano tutti belli carichi Di energia Di tecnica Di Muscolarismo Si è pensato che Di poter Far arrivare al grande pubblico Un concetto Era quella anche Del suonare bene Della difficoltà tecnica Eccetera E si è cercato di mischiarlo Con quello che Ascoltava la gente No? Sì Quindi ti ritrovi Live di Ciccoria Electric Band In Germania Mi viene in mente Quello dell'87 In cui praticamente Loro sono su Tipo sono in un palasport E suonano in pigiama Cioè giallo Con le spalline Mosse ballano Sì sì Le tastiere portatili Esatto E contemporaneamente Fanno cose difficilissime Allora la gente Era in delirio Però oggi effettivamente Fa un po' sorridere Diciamo Sì sì Infatti tutta quella gente lì Si è un po' Tornata Cioè non tutta Ci hanno provato Però per esempio John Patitucci Che era il bassista Di Electric Band Si è comunque totalmente Poi è tornato Dissociato Sì Fondamentalmente Sì sì certo Quindi mi sa Che quel periodo lì Possiamo dire Che ha un po' Fallito Usando questo Ma sì forse sì Non so Non so È molto apprezzata Comunque ci sono ancora Persone anche della mia Anche più giovani Sì Soprattutto chi studia forse Nelle scuole di musica Va molto questa musica Sì Però se non me Le chiamiamo I Riccardoni Non capiscono molto Probabilmente I Riccardoni I Riccardoni Conosci il termine Sì sì certo Certo Cosa vuol dire? I Riccardoni sono Riccardoni è un musicista Che Predilige diciamo La tecnica Un po' La tecnica Ai contenuti In sostanza Lui giudica tutto In funzione della tecnica Per cui magari Si ascolta un disco Di Cristiano Malgioglio Perché dentro Ci suona Dei Waker La batteria Oppure si ascolta Dei Waker Band Perché ci suona Dei Waker Esatto Oppure Perché Riccardone? Allora Non ho mai capito No anche io L'altro l'altro Ho sentito un podcast In cui si parlava Proprio di questa cosa Era stato uno Che è amico Di quello che ha Coniato questo termine Lo voglio conoscere Chi è? Non mi ricordo Però lo recupero Il podcast Riccardone Non mi ricordo Perché lo spiega Ma nasce comunque Da qualcosa Che vedeva Un tizio Che si chiama Riccardi Comunque il discorso È prediligere Cioè il tuo giudizio È esclusivamente In funzione Della tecnica Cioè quindi Non importa Nient'altro Se non il fatto Che la musica Sia fatta bene Suonata bene Però questo Appunto Significa che tu Ti puoi ascoltare Anche Gianni Celeste Che è un grande Neomelodico Non so se Conoscere Perché c'è Tony Levin Al basso Perché c'è Tony Levin Al basso Guti Govan La chitarra Esatto E la gente si compra il disco E dice Senti come suonano Con i controcazzi Senti come è missato È mixato bene Poi c'è anche un po' Il concetto di Riccardone Si mette sempre vicino Quando vai ai concerti Lui ascolta sempre vicino Al mixer Che è il punto Siccome c'è il fonico È il punto in cui si sente meglio Certo Quello non andrà mai sotto il palco Non gli interessa l'energia Non gli frega niente Cioè lui deve sentire bene Altrimenti No Io Riccardone E lui ha fatto anche un video bellissimo Su Riccardone pentito Sì sì Ho fatto tipo uno oscurato Quello mollato dalla donna Perché al concerto dei Maneskin Voleva andare Di Van Allen Di Van Allen Non voleva andare sotto al palco Con la ragazza Ma voleva stare vicino al mixer E la donna l'ha mollato Oppure Che ne so La ragazza Se è una festa Conosci una ragazza O un ragazzo Insomma in base all'orientamento E lei ti dice Andiamo al piano di sopra Tu vai al piano di sopra Sul letto C'è una chitarra La vedi però La chitarra ha solo sei corde Tu sei un Riccardone Suoni almeno a nove E dici Guarda io non so Ti vorrei suonare un pezzo Ma non posso Andiamo a casa Perché gli piglia male Capito Quello è l'esempio Che bella persona Ecco scusami Ti abbiamo isolato No 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 Stavo pensando che Cioè comunque In quel periodo lì Andare al concerto Andare ai concerti Aveva Aveva Poi non so Magari ero più giovane Io voglio dire Me la vivevo in questo modo qui Però c'era un sacco di gente Che andava ai concerti E c'era grande entusiasmo C'è un Si è trasformato Il mondo del jazz Sto parlando del mondo del jazz Secondo me c'è stato Proprio un cambio di direzione Un cambio di energia Ricollegandoci a quello Che ci siamo detti prima Quindi secondo te C'è meno pubblico Ma più possibilità Di esibirsi Allora Prima parlavamo Di come Dei giovani musicisti Di jazz In Italia Possano affrontare La loro attività E adesso Secondo me È molto diverso Rispetto Alla fine Degli anni 80 E primi anni 90 In cui Come dire L'idea Che uno facesse Il musicista di jazz Non esisteva Proprio Cioè Questa figura Di Persona Che fa questo Non esisteva Almeno Per quella Che è stata La mia esperienza C'erano pochissimi Musicisti Che suonavano Questa musica Non c'erano Delle scuole Dove potevi imparare Per cui ti formavi Ascoltando i dischi Andando a lezioni Da qualcuno Suonando molto E Adesso Secondo me Ci sono i bandi Ci sono Si può andare all'estero Ci sono i conservatori Fai Gli erasmus Del jazz Cioè Vedo Una generazione Di musicisti Che Come dire Va in aereo Dove prima Si andava in bicicletta Con Tutte le conseguenze Del Del caso Ma secondo te invece La gente Era più abituata No Più propensa Ad ascoltare cose nuove Di adesso Beh Allora In quel periodo lì C'era Un programma televisivo Che era Quello di Doc Cioè Che Era una cosa Incredibile Secondo me Per cui Vedi Pat Metini Alle due del pomeriggio Piuttosto che Miles Davis Piuttosto che Michael Brecker E comunque Io mi ricordo Andava ai concerti E il giorno dopo Avevi la recensione Sul quotidiano Del concerto Cioè Ma Tre colonne Capito Dove raccontava C'era tutto Un andamento Di Di grande Io direi Passione Energia Su questa cosa qua Adesso è diverso Eh ma Paralossalmente Allora era meglio prima No Per fare il discorso Da boomer No 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 Però scusa Tu hai detto Che prima Era inimmaginabile Giusto? Cioè Diciamo Diciamo Che prima C'erano pochissime cose E quando succedevano Queste cose Era un happening Proprio Ecco Adesso c'è Tanto Però scusa La famosa Luogo comune Del musicista Negli anni 80 90 Suonava un casino Perché Beh perché erano pochi Innanzitutto Beh però Io conosco Veramente Cani e porci Diciamo C'erano soldi Di Tarcettopoli C'erano C'erano più soldi In giro Non farei mai nomi Non mi interessa Però Come dire Io Cioè Ho conosciuto tantissimi musicisti Che oggi Se fossero giovani di oggi Non farebbero Una Una lira Sì Cioè Non suonerebbero No Certo Allora hanno fatto Sì Tutte le sere Cioè hanno fatto proprio i musicisti Di lavoro Sì Questo perché dici C'era meno gente C'era meno concorrenza C'erano pochi musicisti Che suonavano Ok C'erano forse Un'attitudine Ad andare in giro Ad andare nei locali Delle persone Che avevano voglia di scoprire qualcosa di nuovo C'erano più soldi Per cui le cose si potevano fare Magari malamente Ma si facevano Come dire C'era un'energia C'era un'energia diversa Adesso Non sono capace di analizzare Però se ti devo dire Come l'ho vissuta io Che magari io Tra Vicenza Padova E Treviso Suonavo un sacco In posti Un po' Raffazzonati Ma comunque Avevo un'attività Mentre adesso Devi avere la band Devi avere il festival Devi Cioè Ti proponi ad un festival Devi avere un video Devi avere Tutta una serie di cose Per entrare in un Tra virgolette Mercato Che è cambiato un sacco Mentre prima Arrivavi con il tuo ampli Ti attaccavi E facevi Senza prove Cioè Però vuol dire anche Che ci voleva meno Per richiamare il pubblico Cioè che il pubblico veniva Perché sapeva che c'era musica Sì perché magari C'era questa Adesso Cioè Come dire Sarebbe da analizzare Dal punto di vista sociologico Forse adesso Le persone fanno più fatica Ad uscire di casa E se escono di casa Lo fanno Per una cosa Ben precisa Che hanno deciso Di Vedere E Al contempo Tornando al ragionamento Che facevamo prima Io credo che Il movimento del jazz In Italia Si è cresciuto Moltissimo Su tanti aspetti Per cui per esempio Ci sono un sacco Di festival di jazz Questi festival di jazz Sono finanziati Sono aiutati Ci sono i conservatori Che sfornano Migliaia di musicisti Molto bravi Che hanno fatto Un percorso didattico Che hanno delle capacità Prima Cioè non era così La situazione E vedo tante altre cose Vedo anche delle criticità Poi appunto Io Come dire Da un po' Sono il presidente Dell'associazione nazionale Dei musicisti di jazz E vedo una serie di criticità E vedo un percorso Che bisognerebbe cercare di fare Andiamo nel vivo Vuoi entrare in questa In questa roba qua Io mi chiedo una cosa Fondamentalmente Se posso Una cosa che mi chiedo io Non sono un grande Non seguo molto il jazz Però insomma Qualcosa lo sento E quello che sento In sostanza È che Secondo me Mi sembra un pochino Che Mi chiedo Cosa offrano Di nuovo Questi gruppi A parte Come detto tu C'è tanta gente brava Questo è vero Perché sono Ragazzi di vent'anni Che sono pazzeschi C'è molta più Bravura tecnica Rispetto a vent'anni fa Trent'anni fa Però Spesso Mi rimane difficile Trovare un senso artistico Ah certo In quello che si fa Ma questo è un problema Molto serio È molto serio Sì Cioè Sono perché Ovviamente sono cresciute Le scuole I conservatori Stanno a livelli Però questi arrivano Con un sacco di nozioni Hai imparato un sacco di cose Cosa mi offrono Perché suoni questa musica Qual è la motivazione Che c'è dietro C'è un pubblico Disposto ad ascoltarti Esatto Anche la cosa che dicevi tu Degli anni 80 Arriva qualcosa La fusion Che almeno avevano Fatto una cosa Anche se poi si è rivelata Fallimentare Sono d'accordo con lui Però almeno Avevano messo insieme Il jazz col pop Diciamo Ci hanno provato Però hanno fatto questa cosa Negli anni 70 Che ne so Avevano provato A fare il free jazz Però c'era più tentativo C'erano più tentativi Di fare le cose Oggi mi sembra Che è soltanto Una cosa caotica Che cerca Non so Goffamente Di trovare qualcosa Che però non si trova Sì Allora Sono d'accordo E sento forte Questa Questa Problematica Diciamo dal punto di vista Artistico Creativo E di relazione Con un pubblico E con una realtà No? E credo Che Si possa Tranquillamente dire Che il fatto Che ci sia Un percorso didattico Che Nasce nei conservatori Per cui impari Un sacco di cose Le fai E pensi Che fare quelle cose Sia fare la cosa giusta E poi Cioè Come dire Io Idealmente Ho sempre pensato Che il jazz Sia una musica Che si confronta Con una realtà Interagisce con questa realtà E produce qualche cosa Che è anche di rottura È anche di rompente È anche provocatorio È anche Profondamente sentito Comunque Cioè Credo che i grandi maestri Ma non del jazz Dell'arte Ci insegnino questo No? Ecco Allora Questa musica Chiamala Istituzionalizzata Chiamala Sterilizzata Chiamala come ti pare Potrebbe diventare Un po' come la musica Classica Secondo me Cioè Una musica Che Come dire Ha perso A mio modo di vedere Molto del suo Del suo messaggio creativo Che era potentissimo Quando è stata inventata Tra virgolette Ed è rimasta Una musica Comunque di grande valore E forse la musica da fare Oggi Non è più Questa Cioè Ma qui sto ragionando Da musicista Che Immagina Che cosa Dovrei Che musica dovrei Sento di dover fare E fa una musica E forse Non è esattamente Jazz Questa è una parte Diciamo creativa Artistica L'altra parte Secondo me Perché Dentro di me Sento Più persone È il fatto Che Sono presidente Dell'Associazione Nazionale Di Musicisti di Jazz Ok Credo che Sia sensato Anche per le cose Che ho detto Quando ho cominciato a suonare Che Un musicista di Jazz Non sia soltanto Un creativo Ma sia anche Uno che Lavora Viene pagato Ha una pensione Ha un minimo Di tutele È inserito In un ambiente E questo è possibile Perché in altri paesi È assolutamente possibile Cioè Il nord Europa Ha creato Una cornice Per questo soggetto E dentro questa cornice Poi Secondo me Si è creato Un quadro Che non è quello Che abbiamo noi adesso Ma è un quadro Creativo Anche Molto personale Molto originale Molto identitario Cioè Jazz norvegese Jazz svedese Poi Vai a fondo E dici Ah ma hanno un sacco di soldi Sono in pochi Fa freddo Stanno a casa Non c'è la pizza Non c'è la pizza Però comunque Cioè Allora siccome Facendo un ragionamento Anche Poco personale Ritorno Poco personale Ma più associativo Io Io A me è successo Che molto spontaneamente Ho Aderito a questa associazione Ma ancora prima C'è stata un'associazione Dei musicisti di jazz Che si chiamava Ami E mi sono sentito Proprio perché Come dire Ero disperso Nella provincia Trevigiana E volevo fare Musicista di jazz E non avevo Nessuno accanto a me O vicino a me Che mi potesse aiutare In questo percorso Ideale Un po' folle Mi sono associato E ho sempre pensato Che associarsi Sia una buona cosa Anche per Appunto Scontrarsi Dibattere Discutere Orientarsi No Perché dico questo Perché Perché penso che Ci sia un percorso Che va fatto Semplicemente Perché non è possibile Che i musicisti Lavorino Con le competenze Che hanno Lavorino ancora In queste condizioni Cioè Ma non esiste Cioè Allora Vogliamo Vogliamo Parlare della previdenza A natura di palle Però se volete Cioè Qualcosina può essere interessante Eh Allora io A un certo punto Mi sono trovato davanti A questa cosa Ho cercato di capire Che cos'è la previdenza Che è Praticamente Se ne vanno Giustamente E La La possibilità Che uno che fa Ciao Ciao La possibilità Che uno che fa Che fa un'attività E Vada In pensione Però è molto interessante Capire come funziona In Italia Cioè È abbastanza pazzesco Che io parli di previdenza Qui Ma comunque Lo faccio Volentieri È un podcast Sì 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 No No Ma anche per come sono fatto io Ma comunque Funziona così Praticamente Tu devi fare 90 giornate lavorative L'anno Per 20 anni 90 giornate lavorative E Quando si parla Di giornate lavorative Si intende Un concerto Oppure una prova Ok E deve essere pagata Una cifra minima Allora La previdenza Pesa Il 36% Di quello Che un musicista Guadagna Cioè Un sacco di soldi Questo perché Perché quando è nata La normativa Voleva tutelare I musicisti No Adesso Non è più 33 36% Perché è aumentata Da luglio Sì Però sono diminuite Le giornate lavorative Che erano 120 E sono diventate 90 Ma comunque Cioè diciamo Questa è nata Per tutelare il musicista Negli anni 50 Perché il musicista Lavorava tutte le sere Nei caffè chantan Nelle orchestre di liscio E dunque Si è prevista Questa cosa qua E questo Diciamo Questa è la volontà Del legislatore Ora si suona molto poco Cioè il musicista di jazz Non fa soltanto i concerti Ci sono vari aspetti Non fa soltanto i concerti Fa lezioni Fa podcast Fa direzioni artistiche Fa workshop Fa tutta una serie di cose Per cui Quello che noi chiediamo E lo stiamo chiedendo Al ministero E all'Inps È Tutta l'attività Che fa parte Della Paniere di attività Che un musicista Svolge Per sopravvivere Deve Deve rientrare Nella sua previdenza Così lui sarà incentivato A pagare la previdenza Perché ragionevolmente Avrà una pensione Non solo Ma sarà incentivato A lavorare in bianco E non in nero E se questa cosa Succede dal punto di vista Sistemico Può succedere Magari con tutti gli aggiustamenti Del caso C'è una diminuzione Dal 36 A Meno Cioè Comunque C'è questo Questo problema Ma questo Ha un altro Effetto negativo Potentissimo Secondo me Cioè Che noi costiamo Gli musicisti italiani In Italia Costano molto di più Dei musicisti stranieri E questo Ci rende Un poco Concorrenziali Non solo Dal punto di vista Dell'appeal Perché Vado a sentire Gli svedesi Vado a sentire I giapponesi Vado a sentire I finlandesi Quello che Succede Ma siamo Più costosi Burocraticamente Più impegnativi E Per cui Svantaggiati In più Ci rende anche Svantaggiati Rispetto a Quelli che sono Dei dopolavoristi Cioè Quelli che hanno Un altro lavoro Hanno un'altra Cassa previdenziale Per cui sono esentati Ecco Allora Quando spieghi Questa cosa Diciamo All'Inps Loro Si spaventano Perché dicono Ah ma Se voi Allora Voi Voi volete pure essere pagati No Sai qual è il problema Sai qual è il problema Vero Che loro pensano Ah ma allora Ci sono un sacco Di persone in più Che potrebbero avere La pensione E noi Non abbiamo i soldi Per pagarli Capito In realtà Uno Tutti i versamenti Che noi Tutti i musicisti Abbiamo fatto Sono andati In un Come dire Serbatoio Che non è stato Mai speso Perché noi Non avremo mai La pensione E questo È servito Per finanziare Le pensioni Degli altri Uno Due Se come dire Si creano le condizioni Per cui tutti i musicisti Ma no Sto parlando Dei musicisti Cioè musicisti Di jazz Musicisti Artisti Operatori Dello spettacolo Della cultura Se tutti lavorano In bianco Versano Ovviamente Accedono A dei servizi Ma tutto il sistema Diciamo Esce da Questo Fango Nel quale Noi siamo Abbastanza Abituati A stare Perché ci siamo Abituati Cioè io ho scoperto La previdenza Quando ero già grande Ma ho scoperto Che dovevo fare La fattura Quando ero già grande Cioè nel senso E invece Bisogna abituarsi Subito Deve essere Una roba normale Come accordarsi Prima di un concerto Fine Una domanda Personale Quindi secondo te Onestamente Al netto del fatto Che è giusto farlo Ma noi vedremo mai I soldi Che abbiamo Che stiamo versando All'Empals Ma noi non lo so Però secondo me Dobbiamo impegnarci Comunque Perché La situazione Cambi E sì Su questo Ti fa onore Dico no Ma era un ragionamento Puramente egoistico Cioè nel senso Che io Molto spesso Mi chiedo Cioè tutte le volte Che faccio Tutto Ma infatti si cerca Di eludere In tutti i modi Possibili Immaginabili Perché io Avendo la partita IVA Anche come insegnante Io potrei Penso Versando l'Inps Anche da In gestione separata Potrei anche Essere presente Immagino No no No? Ah ok Vabbè No perché sono due cassetti Fiscali diversi Cioè tu vuoi suonare Puoi fare Puoi fare consulenza Allora in quel caso Sei Imps Ah ok Però se tu fai un concerto Devi comunque essere Inagibilità Cioè Ex Amples Perché sono dipendenti A me è arrivato di tutto Con l'associazione Fattura che però Rimandato indietro Dicendo no A me serve L'agibilità Non l'hai fatta Nel senso Sì sì poi Però avendo la partita IVA È un delirio Poi aprirci L'agibilità da soli Cioè io adesso È da due giorni Che sono dietro Sono con l'Inps Per fare il modello A uno Per andare a suonare In Francia Certo A gennaio E quelli dell'Inps Non sanno assolutamente Cosa devono fare Che cosa sia Chiaramente Cioè voglio dire Poi ci sono tutti i problemi Legati alla semplificazione Per cui è tutto molto complicato È diventato recentemente Ancora più complicato Per cui c'è l'Uniemens Alla fine del mese Per cui giustamente Nella giungla L'italiano Impara Abilmente Tutti i modi Per svicolare Però questo produce Un Sottobosco Inutile Sì Perché non aiuta La categoria Non soltanto Un sottobosco Ma è un boomerang Che poi ti arriva Da un'altra parte Capito E poi Magari non ci riusciamo Io ormai ho deciso Di provarci E ci provo Si può evitare Secondo te è possibile Che un giorno Cambino le cose Allora Per come ne vedo io Il sistema è proprio Totalmente fottuto Allora Ti devo dire Una cosa Anche questa personale Che Quando vai A parlare anche all'Inps O al Ministro della Cultura E incontri le persone E gli spieghi Questa cosa Che per noi È la nostra quotidianità Ti guardano e dicono Ah Eh non avevo capito Perché loro ovviamente Cioè ragionano Su altri parametri Cioè noi dobbiamo pensare Che non so Le orchestre Ma le orchestre sinfoniche Sono un parametro Ed è una vita Completamente diversa Da quella che facciamo Sì Ormai sono poche No ma comunque Cioè sono settati Su un mondo del lavoro Che non è il mondo Del lavoro nostro Che non viene mai rappresentato Che non conoscono Magari ogni tanto Sei fortunato Come mi è successo L'altro giorno Che mi dici Ah sì effettivamente Mio cognato Suona E mi ha raccontato Anche lui Questa cosa Questo al Ministero Gli è successo No questo è Un esperto Di Inps Che diciamo È un consulente Del Ministero Ok E allora gli ho spiegato Eh sì effettivamente Anche mio cognato Mi aveva detto Questa cosa Eh effettivamente sì E allora bisogna E quello che volevo dire È semplicemente Che quando parli con le persone Le persone capiscono Questa cosa qua E magari si attivano Perché dicono Eh effettivamente C'è un problema Allora proviamo a fare qualcosa No? E questo mi sorprende sempre Perché io da musicista Ho sempre pensato Che come dire Io facevo l'arte E dall'altra parte C'erano delle persone Che non capivano No? E invece Se gli spieghi le cose Capiscono E diciamo A un certo punto Della mia vita Ma questa è sempre Un'esperienza personale Ho cambiato La mia prospettiva Mi sono messo A organizzare concerti Mi sono diventato Direttore artistico Cioè Ho deciso Che nel mio territorio Siccome non c'era il jazz E io non suonavo mai Comando io Eh? Nel mio territorio Comando io No no scusa No nel mio territorio Sto pensando a Sì ho usato un termine Anche improprio Cioè nel senso Dicevo Cazzo vado in giro Per il mondo A suonare E qui non suono Allora Forse è inutile Che sto a lamentarmi Provo io a vedere Se ci sono le condizioni Per far partire Delle iniziative E poi parli All'assessore della cultura Che il jazz Non sa neanche cos'è Però tu gli racconti La tua storia Che ha evidentemente Un'energia Una validità E poi riesci a fare Le cose Cioè questo è il mio approccio Per cui Probabilmente il sistema È fottuto Come sistema È fottuto Perché comunque Anche se Con tutte le agevolazioni Del mondo Ci sarà sempre Quello che nel locale Piccolo Che non si può permettere Niente Dice mi dai 40 euro 50 euro Sì E ti vengo a suonare E chi si è visto Ma c'è un tasso Secondo me Come dire Di Come dire Non dovremmo Non dobbiamo puntare Alla perfezione Dobbiamo puntare Ad un'evoluzione Questo sono d'accordo Ad un meccanismo Che possa far evolvere Le cose Io questo Lo vedo possibile Perché vedo Che le persone Reagiscono Sì Forse sì Infatti Io ho spesso Questo problema Di essere presa Per talebana Perché È da una vita Che Mi interessa Tutta la parte Più politica O di categoria Insomma Di noi musicisti E quindi faccio corsi Spiego L'Empals La partita IVA Aiuto amici Colleghi A inquadrarsi Blah 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 E quando si parla Di mettersi in agibilità Eccetera Cioè vedi che proprio C'è un muro A un certo punto Con il musicista Con cui stai parlando E invece non è così Perché poi Ci sono ovviamente Delle sfumature Cioè c'è il posto In cui vai a suonare Senza l'agibilità Perché il posto è figo Il motivo per cui Vai è bello Eccetera eccetera E magari quella sera Chiudi un occhio E quindi No c'è sempre questa cosa Di dire Perché Sembra che poi Ti metti appunto in regola E non puoi più suonare Perché è tutto così Però è una condizione Che ti aiuta anche poi A fare un passo in più Cioè nel senso Nel momento in cui Tu ti metti in regola Poi permetterti Di andare in luoghi Dove prima Non saresti potuto arrivare E presentarti Sì perché devi essere Un po' strutturato E anche il fatto Di dover pagare delle tasse Ti incita a fare di più Cioè è quello che succede A tutti i lavoratori Poi nel senso Che a un certo punto Succede che evolvi Ti prendi la partita Devi lavorare il doppio Perché devi Apri un'associazione E' chiaro che è una pigna Ovvio Come per tutti Nel senso che anche a me Sarebbe sempre piaciuto Cioè io penso Sto tanto alla musica Vado a suonare Torno a casa Studio Penso alla musica Non voglio interferenze Non è possibile In questa fase Secondo te Oggi Oggettivamente È possibile Non farlo Cioè nel senso Lavorare Ad alti livelli Senza Mettere le mani Beh devi avere qualcuno Che lo fa per te Eh vabbè Ma realisticamente Chi si può permettere Di avere uno Che lo fa per te Cioè Oggi Non parliamo dei vecchi Che sono oggi Ma di un Trenta Quarantenne Oggi Il jazz è giovane Questo è l'anello Secondo me Mancante comunque Cioè Cioè deve Scusami finisco Deve necessariamente Imparare a gestire tutto Quindi contemporaneamente Essere un grandissimo musicista Ma questa cosa A mio avviso Non è sufficiente No E quindi deve necessariamente Anche essere un buon manager Essere un bravo Come si dice Un amministratore Commercialista Commercialista Contabile Quello che è Cioè conoscere tutte le forme Magari avvalersi Sì di un commercialista Un avvocato Quello che è Però fare il 90% Da solo Per poi Una volta Che magari ce l'ha fatto Potersi permettere Potersi permettere Di pagare Altri Però Sì Il punto di partenza È che devi fare tutto tu Sì Allora Sì Io credo due cose Rispetto a questa cosa qua Che da una parte Diciamo Io ho cominciato a capire Questi meccanismi A 40 anni Se magari Mi avessero Fossi stato un po' Istruito A 20 anni Sarebbero diventati normali Come tante cose della vita Però a 20 anni Io ti rispondo C'è pure 40 anni Quasi E queste cose le ho capite qualche anno fa Eh ma perché Non ce le dicono in conservatorio Ok ma secondo te Nelle scuole di musica O gli altri colleghi Però Dio io posso dire Quando avevo 25 anni Le sentivo Ma io dentro di me Dicevo Era lontane È roba da sfigati Cioè è roba da chi non sa suonare Anche Sì perché il musicista Si illude sempre Che prima o poi fai il botto Prima o poi fai il botto E non avrà di questi Quei diventi tipo Che ne so Però sta anche nella Cici d'Alessio Nella relazione Che tu ha Cioè Non devi necessariamente Essere consapevole Di tutto quello Che si muove attorno a te Quando fai Quando suoni Però Se attorno a te C'è un direttore artistico Un organizzatore Che ti costringe ad un percorso Secondo me Questo Ti fa entrare in un meccanismo Per cui poi le cose Diventano normali Certo Parlavo con l'Alessandra Bossa Che è una pianista Che Ha lavorato tanto in Norvegia In Svezia E mi dice Ah ma io alla fine dell'anno Aprivo il mio software Mettevo i miei dati E track Mi veniva fuori Tutto molto semplice Ok Cioè È importante che lo sappiamo È importante Che sappiamo Che si può fare Questa cosa qua Allora Però Una cosa che ti volevo dire Secondo me è questa Cioè bisogna essere Informati Essere consapevoli Poi Non conoscitori Approfonditi Però almeno Avere un'infarinatura Di queste cose qua Io personalmente Questo percorso Me lo sono fatto da solo Perché Appunto Cominciando a organizzare Degli eventi Ho cominciato ad andare Alla SIAE Ho cominciato ad andare Da commercialista Mi veniva mal di testa Ogni volta che andavo Al commercialista Però dopo un po' Ho cominciato a capire I meccanismi Chiamalo tempo perso Chiamalo tempo impiegato In questa cosa qua Comunque Fa parte di un Mio percorso E va bene Ho imparato così le cose Dall'altra parte Credo che adesso Se siamo un po' bravi Cioè Il mondo della musica Evolverà In un In un modo Per cui si creerà Uno spazio Per avere Delle persone di supporto E queste persone Di supporto Che siano degli amministrativi Che siano dei progettisti Dei persone che fanno Dei bandi Dei book in agent Credo che si possa creare Non è semplice Ma si può fare E allora il musicista Diventa più Rilassato Per come la vedo io Qua poi è abbastanza Forse Già da Roma A Vicenza è diverso Forse qua c'è più coscienza Di questa cosa Io penso che Almeno per quanto riguarda Roma Se tutti i locali Mettessero in regola Chi suona Penso che molti locali Sparirebbero Ma non sta in piedi ancora Non sta in piedi E molti musicisti Semplicemente dovrebbero Smettere di suonare Che forse è anche un bene Perché ci sarebbe più selezione Sì Però non lo sono Ovviamente questa è roba Proprio di economia Che non ho le competenze Perché è una cosa Che immagino Però secondo me È una cosa Che non è sostenibile Perché già faticano Così un locale Ma con cinque tavoli Come fa? Già mi stupisco Che riesco a dare 150 euro in nero A un trio Allora Questo fa parte Di un percorso Che significa L'attività di quel locale È culturalmente rilevante Adesso uso Tutto un sacco No Ovviamente no Aspetta Aspetta Un sacco di termini Che possono essere Cepiti Sì sulle quali Si può riflettere Se viene riconosciuta Come culturalmente In Germania È così Cioè che hai Le case della cultura In Austria Degli spazi Che sono finanziati Ma è sempre Il problema Il problema A cui torniamo all'inizio Che non ci stanno soldi Ma io non sono Tanto d'accordo Io non sono Per niente d'accordo I soldi ci sono Perché se li va a prendere Perché Perché Fai un'opera tu Metti in piedi un'opera Quanto costa Apri un teatro Con dentro I tecnici Gli elettricisti I vestiti I costumi L'orchestra Tutti in regola L'amministrazione La segreteria È vero Ecco Allora Perché loro Riescono a fare L'opera Perché Perché con l'opera Fai 500 Mille spettatori E ci rientri Forse per quello È in passivo totale L'opera Come tante attività Culturali italiane In cinema Perché culturalmente È considerata Perché c'è una lobby Che chiede I finanziamenti Sì E loro glieli danno Certo È certo E se noi Non riusciamo Ad essere una lobby E uso un'altra Parola Spaventevole Per molti colleghi No Che rivendica I suoi diritti E chiede Quello che è giusto Avere Secondo me Ma Sottraendo Un pezzetto Da altre Categorie Che Che stanno Campando Capito Di Sovvenzioni Noi Secondo me Possiamo fare Un grande passo avanti Ma sta già succedendo Questa cosa qua Cioè gradualmente Io la vedo Perché 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 i festival Sono finanziati Adesso dal FUS Fondo unico Dello spettacolo Che costringe Tutta una serie di cose Tra le quali Che tutti i musicisti Lavorino in regola Facciano le giornate Lavorative E questo significa Che i festival Si dotano Di un personale Amministrativo Che fa tutte Le cose Che deve fare E questo Ci piace Non ci piace Però Dico dal punto di vista Mio Cioè i musicisti Lavorano in condizioni Un po' migliori Un po' più tutelate Un po' più Consapevoli Punto Probabilmente Il discorso Che dici tu Cioè quello che lui dice È culturalmente rilevante No È il discorso Che probabilmente Dovremmo staccare Quello che è il lavoro Tra virgolette Da bar Da Quello che è culturalmente Rilevante Giusto? Questo è il punto Cioè nel senso Che se tu vai All'osteria Con quattro tavoli Sì E gli fai l'accompagnamento jazz No Questo no Sono due cose diverse Però sai Non rientrerà Giusto Secondo me È un equivoco Che c'è In molti discorsi E che comunque C'è da distinguere L'intrattenimento Dal concerto E questa è una cosa Che in pochi Distinguono Quando parlano di queste cose Fai pure gli esempi Che sappiamo Sì Assoluto Se sei in un'osteria Come dici L'hai fatto tu Insomma Se ci sta un trioggezza Un angolo Non stai facendo un concerto Non stai facendo Se suoni a un matrimonio È diverso Da fare l'opera O il concerto Del tuo gruppo O il concerto del tuo gruppo O lei È diverso Da suonare Per intrattenere Perché siamo arrivati A dire questo Non lo so Perché il discorso Che probabilmente Quello tipo di mondo Che è legato All'intrattenimento Sarà molto Sempre più difficile Mi chiedo anch'io Forse inutile Cercare di controllare Nel senso Che o gli metti Uno sbarramento Del tipo Non si suona Se non sei dentro Un sindacato È come se metto il mago Ma io piuttosto Preferisco Io diciamo Dopo tutti gli anni Di culo Che mi sono fatto E alla fine Dico ma io devo andare A suonare in questi posti Se ci vadano I dopo lavoristi Sì O comunque Chi lo fa per passione Cioè ci sta Alla fine Io infatti Non sono d'accordo Sul discorso di dire Pure nel baretto Ci deve essere L'albore musicisti Per cui Oh sei iscritto Diplomato Oppure non ci vai Secondo me non ha senso Perché in certi posti Invece è giusto Che ci vada gente Per passione Che lo fa per passione Io con la tastiera Che canta Sì E se si diverte Così E il locale è contento Lo paga poco Perché alla fine Non ha soldi Ci sta No Ma questa cosa È venuta a fare Il primo podcast Che voi avete detto Che non ce l'avete Con i dopolavoristi No io non ce l'avete Io sono stata zitta Perché sono d'accordo Fino a un certo punto Nel senso che Quella è comunque L'immagine Che si fa il pubblico Di un musicista Cioè nel senso Che fuori Non c'è il restauratore E il restauratore Del merda Al bar Che uno lo vede Dice Ah ma quindi Un restauratore Fa così Perché se al bar Va mia zia Che di musica Non sa niente Si fa quella immagine Di quel chitarrista E domani arrivo io Che ti spiego Tutto un altro mondo Vabbè però Che ci interessa Dell'idea che tua zia Si fa dei musicisti Eh no L'idea che ha Il pubblico di noi Non è Cioè fa parte Di tutta la nostra Io me ne sbatto Un pochino E poi dipende Nel senso In una situazione del genere Tipo il locale Che paga il musicista 50 euro in nero È vero che non fai Concorrenza a nessuno Il fatto che uno Possa andare in giro A suonare esente Per noi è un peso pazzesco Con il fatto che C'è il 36% È una cosa Su quello sono d'accordo Su quello sono d'accordo Ma è anche un gioco A ribasso Cioè se tu fai una cosa Devi farla bene Devi avere dei musicisti Di qualità Per vedere riconosciuta Questa qualità E avere un contributo Che ti supporta Sei incentivato Se no È tutto un gioco A ribasso Allora facciamo Sì Non facciamo la pubblicità Allora vabbè Mi pago poco Allora non c'è la backline Allora è tutto È tutto E questo ha a che fare Molto con la qualità Secondo me Poi è chiaro Che questo ragionamento È Ha Un aspetto di pericolosità Perché in qualche modo Costringe Chi fa una cosa Ad essere strutturato Magari c'è uno Che non ha struttura Ma la fa bene E la fa in modo geniale Creativo E bisogna comunque Come dire Aiutarlo ad esprimersi Per cui Sono consapevole Di Di questo problema Però penso anche una cosa Che forse Non dovremo puntare A un ideale Di mondo Ma dovremo imparare A porre il nostro problema E cercare di migliorare La nostra Situazione La nostra condizione In questo senso Come musicisti Siamo troppo abituati A fare i cani sciolti E a criticarci Continuamente E io sono meglio di te E per cui non vengo Al tuo concerto Dovremmo essere un po' Più solidali Banalmente E combattivi Che quello che ho detto io All'inizio Ti ho detto Loro sono venuti No io sono andata Ai concerti di Frank Loro fossero venuti Una volta a sentire musica antica Adesso non facciamo Questa discussione Io sto a Roma Quindi sono Io l'ho vista su Youtube Sono giustificato Aspetta Aspetta Cosa? Adesso va la casa E mi guardo E' vero Io una volta Sono andato a sentire Frank Martino Però a Roma E' vero Ma perché ero a Roma E tu non sei mai venuto A sentire me a Roma Ragazzi Sono io Che non vado ai concerti No Allora io Non vado più Anche questa cosa Secondo me Ci deve essere un motivo Perché io vado a sentire Un concerto Io a volte entro Nei locali A Roma E vedo dei gruppi Che suonano Anche jazz Anche gente brava Anche nel jazz club Vedo gente che Sta là Che palesemente Non ha fatto prove Che non ha nulla da darmi Che suonano coi musoni Tutti tra di loro Certo Che mi Ti fa sentire Non mi piace Perché io dovrei pagare Un biglietto Per sentire una cosa così Io devo però fare un outing A questo punto Sai ci sono i momenti Del mio outing E nel podcast Cioè allora Onestamente Io da quando sono diventato padre Ho grossissime difficoltà A uscire Per motivi miei Cioè nel senso che Comunque preferisco stare a casa Perché spesso sono fuori Per suonare E quindi Difficilmente Vado a vedere i concerti Se non i concerti È la vita Attenzione Tu sei mamma Ci vai lo stesso Ok Però No non lo so Io non sono padre E non ci vado lo stesso Però voglio dire una cosa L'ho fatto tantissimo In passato Però Adesso è cambiato Un po' Però Come dire Secondo me Non è quello il problema Cioè il fatto che i musicisti Non vadano ai concerti È un po' come dire Che gli avvocati Non vanno a sentire L'udienza degli altri Cioè Vieni Sempre No Io lo capisco Però bisogna anche Mettersi Nei panni Cioè Io Se sei un professionista Sei anche pubblico Però non è la stessa cosa Ecco però Essere un professionista Cioè Perché adesso Hai parlato degli avvocati Sì Se hai bisogno di un professionista Per fare una cosa Vai dall'avvocato Spendi i tuoi soldi Sì Hai la tua qualità Magari Quell'avvocato Era un cretino Lo stesso Però parti da un Come dire Sì Da un approccio Con questo Che è un professionista Studiato e laureato Cioè ma perché il musicista No Sì Ecco E allora Dovremmo Come dire Rispettare questa figura Secondo me Di più Tutti noi Che lo siamo E il pubblico Ma non è Una cosa che possiamo Decidere a priori Fa parte di un movimento Culturale Ok Di valorizzazione Di un soggetto Ok Io penso un po' a questo Posso andare con la prossima domanda Ah sì no scusa No no Perché parleremo ore Di queste cose Però vai vai Siccome non voglio fare Troppo tardi Allora Ne ho almeno altre due Poi ne verranno fuori altre Però Allora Come essere direttore artistico Da musicista E quante difficoltà hai E se Ci sono dei problemi Che ne so Di conflitto Di interessi Queste cose qua Che magari ti creano Ma Allora Io come direttore artistico Mi sono dato una regola personale Che non suono nel festival Che organizzo Però Non è che dovevo farlo Questo gli fa onore Si finisce sempre a parlare Di questa cosa Però Devo dire Devo dire Che Cioè Non è che io sono Il direttore artistico Di un festival Cioè Non c'era il festival E Per tirarlo su Cioè Ci sono Gli incontri Con gli assessori Ci sono I viaggi in macchina Con le batterie Ci sono I primi anni In cui non hai Nessuno che ti aiuta Ti fai un mazzo Veramente Notevole E Questo Come dire Mi fa piacere Che il mio esperimento Sia andato a buon fine Che ci sia un festival Che io dirigo Adesso Che sia un po' strutturato Da qualcuno Che mi dà una mano A fare le cose Però Come dire Fare direttore artistico È La cosa Più Cioè Meno faticosa E più divertente Uno Cioè Perché proprio È Come dire Per un musicista Scegliere dei gruppi Da mettere su un palco Ma che problema è Certo Poi c'è il fatto che Tanti musicisti Ti scrivono E tu Non è che li puoi mettere sul palco Tutti Devi fare la tua scelta E la tua scelta Deve E qui è interessante Secondo me Perché Guardi le cose Con un occhio diverso Per cui dici Ok Adesso io organizzo Un festival Che È in In vari luoghi D'estate Per cui Mi voglio immaginare Il gruppo Che va in quel posto Che suona Non so Sotto un albero Di un parco Su una piazzetta Su E E devo immaginarmi Una roba che funziona Il musicista Che mi scrive Non gliene frega un cazzo Cioè mi dice Ma io voglio suonare Sono qua Pronto Magari Pure mi piace la musica Però Non riesco A piazzarla lì Per tutta una serie di motivi Anche di relazioni Con il territorio Che l'assessore Vuole sentire La cantante E noi gli mettiamo La cantante Brava però Cioè Credo Credo Che in questo senso Il musicista Possa Discriminare La qualità Di ciò Che propone In modo Migliore Rispetto a uno Che non ha nessuna competenza Perché i direttori artistici Come si formano? Non hanno formazione Cioè sono degli appassionati Che sanno un po' Di Politica Barra Amministrazione Barra Capacità imprenditoriale Ma non hanno nessuna competenza Cioè io almeno Un po' di competenza Come te Come noi Cioè se uno è stonato Se uno non va a tempo Se la musica è interessante Se la musica Se non hanno fatto le prove Lo capisci subito Sì assolutamente Eh basta E tu barra Non barra 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 No no perché ho capito Politica Barra Non ho capito se era una battuta Barra quanta gente volta Esatto Ma in questo Come vedi il mondo Di direttori artistici Diciamo del jazz Poi potremmo parlare Di qualsiasi genere Ma No Persone appassionate Che Cioè manca È un discorso Che manca qualcosa Secondo te Cioè dovrebbero essere Più musicisti Oppure in realtà Il direttore artistico Sarebbe meglio Secondo me Il musicista Cioè il musicista Ha le competenze Per fare direttore artistico Quindi dovrebbero essere Tutti i musicisti Secondo te Sì o comunque Devono avere delle competenze Cioè devono Devono distinguere Tutti Però aspetta Io per esempio Me lo dico da solo Io penso Sono musicista Penso di capire qualcosa di musica Ma se mi metti in mano La gestione di qualcosa La faccio fallire dopo due ore Ma tu non devi gestire Devi avere una struttura Che gestisce E che ti dice Ok Quali sono i musicisti Che tu sceglieresti Per fare questa cosa qua Eh lo so Da mettere in quel posto Vieni Ti facciamo vedere i posti Però come dici tu Uno deve capire anche Di politica Di economia Ma quello non è il lavoro Del direttore artistico Quello è il lavoro Del direttore organizzativo Eh però penso Che al giorno d'oggi Si tenda a cercare persone Che fanno più cose Ma perché non c'è la possibilità Perché non ci sanno soldi Però se tu vai in Europa E' vero che se sono il bassista Magari devo capire anche qualcosa Di chitarra Qualcosa di batteria Quindi anche Si Un direttore artistico Secondo me deve capire Anche qualcosa Allora Io mi sono iscritto Qui è stata un'intuizione Del mio socio Nicola Fazzini Noi abbiamo un'associazione Che si chiama Musica.org Ok Che è sponsor del podcast Per questo diciamo No Come no? Possiamo dire nomi Che non parlano Questo spazio Non si fa Allora lo tagli No Mi fai un bonifico Post datato Vai No E lui mi disse Ah C'è Europe Jazz Network Che è l'associazione Dei festival europei Ok E fanno un meeting Ogni anno In un paese diverso E quell'anno lì era La capitale della Slovenia È Ljubljana Per cui era vicino Potevamo andare in macchina Siamo andati E mi sono reso conto Che in altri paesi d'Europa C'è C'è il direttore artistico C'è il direttore organizzativo C'è c'è tutta una struttura Attorno a questa Cosa Diciamo Dell'organizzazione Di un evento Che magari da un lato Dici Ah ma ci vogliono Un sacco di soldi Cioè Però è così Se si possono fare così Le cose si fanno bene E poi quando ti succede Comunque di andare A suonare in questi posti qua Hai La scheda tecnica La backline La promozione Ovviamente più soldi Sono dedicati Alla cultura Diciamo Come? Perché l'Italia Ha un problema Secondo me molto serio Che ha una grandissima Tradizione musicale Non soltanto musicale Culturale Artistica Che succhia Una marea di risorse Per cui c'è poca Proiezione verso l'innovazione E verso le musiche diverse Da quelle che si sono sempre tutelate E le musiche Diciamo Chiamale antiche La classica L'opera Sono fortemente strutturate Per la classica Non lo so Chiedo Per la classica L'opera Ci stanno un sacco di soldi Beh ce ne sono tanti Cioè Allora Il Abbiamo capito niente No Ma è importante sapere Il fondo unico dello spettacolo Finanza e attività culturali Da I C1 Della CIA Che sono i borderaux Il jazz pesa Adesso dico delle cifre Che forse non sono esatte Il 20% Dell'attività concertistica In Italia Ok Però I fondi del ministero della cultura Non sono il 20% Sono il 4% Per il jazz Ok Per cui c'è Tanta attività Poco finanziamento Con più finanziamento Vedrai che le cose cambiano Per cui Ciò significa anche E poi ci sono tutti i paradossi Del caso Che sono Finanziate delle attività Che magari Non so La musica contemporanea Capito Il grande classico È il concerto di musica contemporanea C'è tutto il concerto Tutta la preparazione Tutto il concerto Perfetto E il pubblico non c'è O c'è pochissimo pubblico Dobbiamo confrontarci anche con questo Grandi finanziamenti Poco pubblico Non va bene neanche questo Però comunque noi dobbiamo fare il lavoro Per noi Secondo me Ecco Chi se ne frega Chi ci viene ad ascoltare No E No 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 Parlava di categorie Per noi categorie Scusate Mi sono distratto Nel mio podcast No questo è vero Di stakeholders Esatto Volevi dire una cosa Scusami Io stavo cambiando Dire proprio quello Che deve Deve esserci più interesse Da parte di noi tutti E anche mettercela via Da un certo punto di vista Per il fatto che Magari vorremmo che Appunto il nostro disco Spaccasse Solo perché abbiamo attitudine E l'attitudine è una cosa Che magari interessava Agli anni 70 80 E che adesso Non viene richiesta Proprio tra le competenze Di un musicista Magari Tipo io punterei tutto Su quello A livello di comunicazione E invece devo fare Altre mille cose Che però Mi permettono poi Di avere un prodotto Perché è un prodotto Che è ben confezionato E quindi magari Poi mi viene Accettato O promosso E Vabbè Ci sono varie battaglie Dato che qualcuno Ascolterà questo podcast Che Vabbè Io da anni Che seguo note legali Tutto il discorso Dell'intermittenza Adesso Per gli artisti È una cosa Stra importante Che tutti Dovrebbero seguire E c'è della gente Tra l'altro Che sta lavorando Tantissimo per noi Finché noi siamo a casa Da suonare Per portare al ministero Delle proposte Ma perché Cioè appunto Poi ti confronti con l'estero Adesso tu hai usato La parola intermittenza E come funziona in Francia Se vuoi dirlo Velocemente Perché è interessante Perché Potrei dire Delle Comunque Diciamo Il musicista L'operatore di spettacolo In un anno Fa 23 Concerti Con tutte le sue prove Tutto in regola Tutto Pagato L'anno successivo A gennaio Non lavora Lo Stato Che ha riconosciuto In lui Un artista Che ha necessità Di essere aiutato E sa benissimo Che ci sono dei periodi In cui Non riesci a lavorare Ti dà 1200 euro 23 è una cifra a caso? No 23 è la cifra giusta Io mi ricordavo 40 23 sono tanto pochi Allora Però Non sono 23 Adesso Non mi ricordo esattamente Può essere Perché non è soltanto il numero dei concerti Ma le prove che fai per fare quei concerti Allora In Francia funziona così Che tu ti iscrivi ad una specie di associazione Che non è un'associazione È come dire una società di produzione Fai conto Che ti commissiona una serie di cose Per cui In Francia È il dato per scontato Che tu Vai a casa Componi Studi Impari Fai le prove Fai lo spettacolo Per cui Quel uno Di un 23 O forse è di più 37 Non me lo ricordo Perché adesso non me lo ricordo È parte Comprensivo Di un percorso Di un percorso Capito Tu vieni dichiarato Diciamo Cioè vieni E qui è una consapevolezza Che si deve sviluppare No Per cui tu sei Un bravo musicista Un professionista Uno che sa fare una cosa Particolare Speciale Devi rientrare in queste maglie Non è semplicissimo E ti aiutiamo Per un anno ti aiutiamo Poi è un sistema molto complicato Dipende Che in Italia Io ogni tanto penso Potrebbe non funzionare No Perché Perché siamo in Italia No No Perché Per quello che ricordo io Ora non ricordo Cioè mi ero documentato Sull'intermittenza francese Cioè nel senso che In Italia Per quello che mi ricordo Rischierebbe un innesco Di sistema mafioso Di date Per avere questa intermittenza Cioè in Italia Dico è una cosa umana Però in Italia Siamo campioni Di queste cose qua L'anno dopo A gennaio Come dice lui Suoni in nero E ti prendi anche la pensione Ecco Diciamo che mi ero fatto Un po' un flash drammatico No No Ci sarebbe probabilmente Questa parte Ma Puoi intervenire No Infatti Esatto No no ma è giusto anche così Cioè nel senso Io sto facendo riflessione All'altra voce Ma è giusto Ci abbiamo pensato tutti No tu non hai mai pensato Secondo te è totalmente assurda Questa cosa Oppure è un rischio Che vale la pena correre Comunque Io sono d'accordo Adesso io non ho abitato in Francia Però ho parlato un po' Con dei musicisti francesi Non è che sia tutto perfetto Cioè non è che Se non ci siano le gabole Anche lì Per fare le cose Però comunque Quando ci parli Sono rilassati Capito Cioè vivono un po' meglio Cioè hanno un po' più tempo E c'era un'orchestra nazionale Di jazz francese Che andava in televisione Che era finanziata C'è un progetto Che si chiama Jazz Migration Che finanzia L'esportazione Del jazz francese Cioè il ministro dell'interno Aveva istituito L'orchestra nazionale Di jazz francese E la metteva in tv Capito? Cioè vuol dire Che il musicista di jazz Pensate che Salvini Fa una cosa del genere No non è Salvini No però Voglio dire Una parte di me Cioè Io credo Nella creatività Spontanea Nel fatto che Forse strutturare troppo le cose Non è neanche bello Però adesso Secondo me In Italia Non dobbiamo porci Questo problema qua Perché siamo Per certi versi Ancora in una condizione Che non È un po' il discorso Che si fa sulle quote rosa Giusto? Tu che ne pensi Di questa cosa Che c'è ora? No Il suo parere A te l'ho già chiesto Allora Cioè il discorso Quello che dico Ti ricollego Perché le quote rosa Oggettivamente È una roba un po' così Però Il concetto è Lo facciamo Perché altrimenti Non c'è via d'uscita Cioè nel senso Altrimenti Nessuno lo capirà mai Quindi imponiamo le quote rosa Finché la situazione Non si normalizza E dopodiché In teoria liberi tutti Sì Quante donne L'hanno preso In 50 anni 60 anni 70 anni Non lo so Perché Sui numeri Non sono forti Una E allora dici Una Chi è? Rita Marco Tulli Ok Ok Allora Dopo Rifletti un po' Studi un po' E dici Certo le donne Non hanno modelli Le donne musiciste di jazz Non hanno modelli Perché Non c'è nessuna Che ti dice Che vedi Che suona Bene uno strumento E tu pensi Anche io lo posso fare Non c'è Non c'è mai Non c'è mai La chitarrista di jazz Non c'era La Sassofonista di jazz La trombettista di jazz Adesso ci sono Un po' di bassiste Sono sempre di più Ci sono sempre più batteriste Sempre di più È molto interessante Questa cosa qua E noi maschi Non dobbiamo troppo spaventarci Perché non sarà questo Che ci rovinerà La camionera Io non sono spaventato Io sto parlando Però Sì Però Figura di se mi spavento Delle donne Sento questa Come dire ogni tanto Mi dicono Sono tutte le donne Suonano dappertutto E noi invece C'è questa bollea A parte gli scherzi No 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 Ma sì Ma poi dove sono Ste donne che suonano Dappertutto Ma comunque Mi sorprende Che il musicista di jazz Non sia aperto Al cambiamento Interessante Ma perché il jazz È sempre stato Questa roba qua Cioè è sempre stato Musica in evoluzione Cioè quello che i maestri Di jazz Ci hanno insegnato È evolvere Contaminare Cambiare Modificare Ma Cioè ogni sera Possibilmente Cioè no Improvvisare No che suono Quello che ho imparato La sera prima Noi facciamo di questa cosa qua Il nostro manifesto Il nostro credo E poi ci Cioè appena arriva Una roba diversa No Sì Allora forse Il jazz Ha un problema Io lo chiamo Il jazzismo Questo Sì Sì ma poi Cioè non è il jazz È il jazzismo Se fai un ragionamento Più ampio Legato Come dire Alla vitalità creativa Di questa musica Che cosa significhi Questa parola Cioè Non lo Ok Sì non entriamo In questo discorso Perché se interessi Sono a noi due E poi comunque Alla fine Non ne veniamo fuori Quindi No infatti Quanto è dare una risposta Che almeno possa illuminare Quelle due persone A casa Che possono essere A casa Dico perché ovviamente Qua È impossibile Però no Non voglio entrare Nel discorso Cosa Cosa no Vabbè però No non volevo sembrare Misogino Prima Cioè nel senso Io scherzo Non sono assolutamente Spaventato Dalle quote rosa Anzi No mi Cioè È una cosa Ne abbiamo già discusso D'altra volta Però io Lei è stata ospite Qui qualche settimana fa E lei non crede Nelle quote rosa Invece Il vero risultato Vabbè Ho detto no Non sei d'accordo C'è un video Che dice questa cosa Non sono d'accordo Perché me l'hai posto In un modo Però A parte che c'era Tutto il discorso ironico Del fatto che mi hai chiamata Solo per le quote rosa Sì ok Però Ironico Non era ironico Era vero No scusate Aspetta No allora Era vero o no Non è il fatto di non essere d'accordo Ne abbiamo parlato Era il fatto di appunto Essere pedanti E ostentare È questa cosa Che poi mi dà un effetto contrario Quindi mi viene un po' di orticaria Quando sento quote rosa E qualsiasi altro termine Però quindi Comunque secondo te È comunque la via giusta Per arrivare Cioè Siamo È come dire Dobbiamo per forza dire Che non dobbiamo Cioè bisogna proibire per legge L'omicidio Perché altrimenti La gente ammazza gli altri Cioè io devo per forza Obbligare a prendere delle donne Nel gruppo Perché se no Non le chiamerò mai Cioè sono talmente deficiente Io Che non sono in grado Di selezionare musiciste Li chiamo tutti uomini Perché penso Io ho risposto Scusami Che ho risposto l'altra volta Semplicemente dicendo Che evidentemente Sono privilegiata Perché non ho uomini intorno Cioè non posso farti un esempio Per fortuna Di un uomo che conosco Che faccia il ragionamento Cioè che si ponga una domanda Prima di chiamare una donna Per qualche motivo Non la chiami a suonare E sinceramente Per fortuna Non conosco neanche nessuno Che ha bisogno Di fare jazz in rosa E chiamare la donna Apposta Come se fosse un esemplare Perché Cioè Ecco Non ne conosco Ci sono Ci sono ovviamente Ci sono Però secondo me Anche E quella È una deviazione Che dobbiamo accettare In questa fase Quindi la mettiamo così Ma secondo me Siamo già In un percorso Che procede Serenamente E arriverà Assolutamente Lì Siamo molto più indietro Con la musica Che su questo tema Certo Ma sì Ma questo Cioè Allora Quanti Quanti direttori artistici Donne ci sono? Non lo so Pochissimi Basta Qualcuno Ma non voglio fare il nome No Comunque pochissimi Ma quanti Adesso Cioè Nelle posizioni apicali Le donne non ci stanno Per una serie di motivi Cioè Poi Non sono un sociologo Non sono un esperto No, quello è un dato di fatto È un dato di fatto E quando ti dico Quante volte c'è stato Il migliore musicista italiano Donna In 60 anni 70 anni 90 anni Non lo so Di una È un segno Che c'è qualcosa Che non va Cioè Che c'è comunque Qualcosa Ok No, no Ok Studiano poco Ste donne Quello Non ci hanno voglia Tutte a casa Sirare Lavare O forse sono più intelligente Hanno capito Che non ha senso Fare un musicista Secondo me può essere anche Cioè nel senso Che lei Sono avanti Dico Oggettivamente Le donne Cioè l'uomo C'è un po' più Diciamo Per la natura L'uomo Diciamo La natura Si concentrava più Sulla forza fisica Nell'uomo Non sull'intelligenza E quindi io ho sempre pensato Che comunque la donna Controbilanci Naturalmente Da un'altra parte Probabilmente l'intuito L'intelligenza Vabbè Secondo me è scienza Però lo dico io Ecco Sono il burioni Della serata Non sono uno scienziato Ma Non sono uno scienziato Ma credo che sia Abbastanza evidente Questa cosa poi Non vuol dire Che io sono più deficiente Della media delle donne Però Comunque una donna Molto intelligente Secondo me È più intelligente Dell'uomo intelligente Non so se ci siamo capiti Ma secondo me Che questa è una cazzata Vabbè Diciamo che è una cazzata Comunque vabbè Grazie Dico grazie Secondo me è così Come esattamente L'uomo È più forte È più forte Della donna Non c'è discussione Cioè Campioni Di panca piana Uomo Solleverà 200 kg in più Della donna E su quello Non c'è dubbio Il calcio femminile Che adesso va tanto di moda Non è possibile Fare un paragone Certo Quindi Può essere che la donna In realtà sia più intelligente Abbia capito Che nella musica Non ha senso Ma questa è una cosa inconscia Non è che si sveglia Al posto di farsi la foto Su TikTok Dice aspetta No faccio la foto No Cioè Gli viene naturale Dire aspetta Magari mi apro Un OnlyFans Piuttosto che Io ci sto pensando Oh no Sì Cazzo No comunque Scusami No no vai 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 No che Si può fare una riflessione Un po' più Su che cos'è femminile Che cos'è maschile E come queste due parti Convivano Negli uomini Maschi E nelle femmine Cioè al di là Della questione Meramente Sessuale E fisica Diciamo E secondo me In questa riflessione C'è ovviamente Che è una parte Di aggressività Di forza Di 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 Determinazione Chiamiamola più maschile È una parte Di sensibilità Di 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 Aspetto più Più sociale Più Più E più femminile Ecco Noi tutti Siamo la La combinazione Di questi due aspetti Io credo Che più donne Nel mondo del jazz Comunque Va bene Ma anche per gli uomini Che non saranno Così costretti A dover fare I super acuti Le super cose Le super Sì c'è molto Ego boost Diciamo Maschio alfa Ecco nel jazz Iper maschio Maschio alfa Questa cosa qui Forse Cioè io sono a favore Di una 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 condizione Un po' più La Non so Mi verrebbe da dire Più umana A me Personalmente Più Però Penso che possa Essere una buona cosa Insomma Sì Ok Poi serve Quella rilassatezza In più Io conosco un sacco di donne Che Un sacco insomma Di agenti Insomma Manager Direttori artisti Direttrici artistiche Che sono incazzate Perché vedi che hanno dovuto Sgomitare Ed è insopportabile Come cosa E lì bisogna Cioè Quella cosa lì Non va bene Perché poi il risultato È la donna Con i pantaloni Che è una cosa Inguardabile Secondo me Che parla di fatturato Che ha la parte peggio Dell'uomo Che dici Ma rilassati Nessuno È vero È complicato È difficile Penso ci sia Anche una cosa Molto umana Forse Anche le donne Che non Dimostrare Sì esatto Di essere come gli uomini Sì E che poi bisogna Sempre ricordarsi Che sei nella tua sfera Femminile Che è bella Cioè non devi abbandonare Quello Perché c'è la testa di cazzo A cui devi rispondere No Sono d'accordo E poi probabilmente Ci sono anche Io non so niente Di antropologia Non è quello Non voglio indagare Però Stavo pensando adesso Mentre parlavi Che forse siamo Anche meno portate All'improvvisazione E al rischio Nel senso E qui sì Che c'è una parte Anche culturale Del fatto che nasci Cioè da quando I tre anni Ti mettono già A fare A cullare il bocchietta A pulire la cosa Ma questo Ma lascia L'altro è lì Che spara Il mio figlio Nel senso È tanto diverso E quindi perdi Quella parte di rischio Per cui poi Anche normale C'è anche il fatto Di farsi mille pippe Su perché ci sono Così poche donne Magari anche normale Però Cioè fa parte Percorso culturale Secondo me Per cui le donne Erano come dire Orientate verso una cosa E i maschi Verso un'altra Ma adesso secondo me Tutta la situazione Cioè dico Mi veniva da dire Deve diventare più fluida Ma è già Ma è bomba Parliamo solo di quel Ho un aneddoto È già così L'altra volta mia figlia È arrivata e mi fa Papà tira qua Io tiro e ha scorreggiato E ha riso A cinque anni E poi Mi fa rifallo ancora E ho detto Oddio no Lo rifaccio e di nuovo Quindi ecco Cioè una bambina Eh sì Quindi scusate Siamo arrivati alla parità Vedi che poi prendiamo Le parti peggiori E poi così fa Io non ho mai fatto una cosa Io non ho mai fatto In vita mia Una cosa del genere Cioè non so farlo E non mi viene neanche Devi essere fiero Direi Non so farlo Sì Non lo so Sono rimasto scioccato Non ho detto niente E poi mi fa rifallo Ah ah C'è un controllo pazzesco Del Dell'ultima parte Del ret Dell'intestino Insomma sì sì È pazzesco Scusate questo piccolo momento Puoi andare con la tua domanda di rito Io ho la domanda di rito Vediamo quanto siamo Sì un'ora e venti Dai La domanda di rito è Quanto conta secondo te Il caso nella riuscita finale Diciamo della musica Ma per chi fa l'architetto È uguale Insomma Nella vita Noi ci riferiamo alla musica Ma vabbè Puoi esprimerti anche in percentuale Ultimamente vale Va molto questa moda No ma Cioè Allora a me A me piace pensare poco Pochissimo Cioè credo che Come dire Le persone Le persone abbiano Delle opportunità Riescano a sfruttarle Ma Non è neanche il caso Nella riuscita Che cosa vuol dire riuscita I like Vuol dire Le vendite Vuol dire Oggettiva No La riuscita oggettiva Nel senso Diciamo anche i soldi I soldi La soddisfazione Non morire di depressione Non suicidarsi Non tirare la cocaina Cioè Non lo so Capito Cioè La riuscita È tante cose Per me Però possiamo dire Che Pat Metin È un uomo di successo Sì Possiamo dirlo Cioè nel senso Anche se poi lui è depresso Non lo so Non credo Però Eh però Diciamo Forse dovremmo Comunque considerare La cosa più Un po' A 360 gradi Però adesso Non è che voglio fare Il filosofo Sì Da ciovercettuale No Però Io 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 credo Che Come dire Il caso Non è come una cosa Che ti capita addosso Che ti Credo Che ci sia Una componente Ma Questo mi viene voglia Di pensare così Mi piace pensare così Per cui tu Le cose Le vedi Le cogli Le interpreti E ci entri Cioè Magari È passato il bus Proprio non l'ho visto E non ci sono salito Perché non l'ho visto Non c'era No aspetta Questa non l'ho capito Cioè c'era o non c'era Prendi l'autobus Giusto Che ti porta Da qualche parte No Se non lo vedi Non c'è E quindi Conta Ma sei tu Che devi cogliere Cioè non è il bus Che si ferma Ti dice Oh Frank Sali su E ti porta Però per alcuni È così Se te lo dici Non sali magari No Infatti a me Se mi avevo Dice Senza Non salirei mai E sto qua Credo Non ho capito No scusa Scusa Non era una cattiva Mi piace questa risposta È la migliore Che ho sentito Quando facciamo il podcast È la migliore Ma io devo arrivare alla fine Cioè non voglio capire No No per cui per me Ma tu sei religioso Sei credente? No Non cattolico Di qualche religione Sì No puoi dirlo Però ho la mia fisioterapeuta Ah Che mi piace molto Che è una persona Che dice No perché tu adesso Devi uscire di qua Devi guardare i segni Devi cogliere Devi essere ricettivo Se sei ricettivo Le cose succedono Se non sei ricettivo Perché sei incazzato Sei depresso Sei ai cazzi tuoi Le cose non succedono Attorno a te Io credo questo Ok Quindi credi nel tuo caso Cioè C'è una sorta di disegno Siamo un motore Nel cambiamento Nella realtà Siamo attivi Cioè in casa è come dire Tu sei passivo Ti arriva addosso una cosa No Esatto Questa cosa Non mi piace Ok Ma non so se è vera Cioè tanto qua Ho detto tutte cose Che non so se sono vere Ma beh Chissà Come funziona la natura Ho portato il mio pensiero O quello che mi piace Credere anche se vuoi Quindi è un concetto Penso molto buddista Se vogliamo Cioè Sei tu che generi La realtà attorno Questo è un po' il concetto No? Guardate ragazzi Ma quanto ne so E beh Ma Sì Ma non Dite che sono E quanto c'è Cioè orientale Sì forse Va bene Non so se è buddista E giù sopra Vabbè Dico un po' cose a caso No musulmano Assolutamente No no Però Tendo dire Sei tu che generi Quello che hai Diciamo che la realtà Senza di te Non esiste Ovviamente Esatto Quindi questo è il punto fermo Quindi secondo te Non esiste Una Un fattore Realmente un fattore esterno Ma sei tu che crei Una realtà Siamo come dentro Un meccanismo Per cui Quindi se tu una cosa Non la vedi Non c'è Non c'è Quindi Scusami Parliamo proprio Cioè se c'è il bus Su cui devi salire Che ti porterà al successo Esatto Se tu non lo vedi Ne arriva un altro O no Cioè te lo sei perso È finita Se apri gli occhi Se apri gli occhi Lo vedrai Ma quando E lui è andato avanti Solo che forse in quel caso Sarà una bicicletta Per il successo O forse un razzo Interessante Quindi dici Comunque in qualche modo Troverai il mezzo Per arrivare al successo Cos'è sto successo No no Lascia perdere Chi se ne frega Quello che è per ognuno di noi Non importa Esatto No mi piace pensare A questa cosa qua Insomma Quando sono in forma Quando non sono in forma Sono pessimista Lo so Non mi ricordo Di certi momenti Di panico Di pessimismo Dicevo vale però Vabbè ci mancherebbe No no ci sta Quindi giusto per capire Comunque Se dentro hai un'idea Ci arrivi Questo è il concetto Sì O in treno O in bicicletta O in aereo In qualche modo Sicuramente È un'idea molto positiva Si può fare Sì Basta Vabbè io non ho più niente da dire Finito È stato bello A meno che non vuoi dire Puoi fare una domanda Sei stasiato tu Sei contenti Puoi fare una Vuoi dire qualcosa Ok Tranquillo A te Prego Facciamogli la domanda Sulla fortuna Che ne so No sto pensando Perché Oddio Cioè siamo È tardi Abbiamo sporato Alberto ci caccia Alberto ci stai cacciando Sì ci guarda Sì sì Ha detto di sì Ah no c'è il pandoro Adesso scusa No dai Possiamo chiudere Avete altro da dire A posto Ok allora Facciamo gli auguri di Natale A tutti A tutte Cazzo Ok ho dovuto fare questa cosa Live therapy Continuerà Andrà avanti E possiamo fare l'annuncio Già volevo fare Allora abbiamo già programmato Fino a aprile Più o meno Però non faccio lo spoiler degli ospiti Ma il 12 gennaio Ci sarà Riccardo Nori Che è un musicista Compositore Autore eccetera Ma soprattutto Noto ai più Per essere il chiterista storico I giovanotti Quindi sarà una bella esperienza Qui E basta Vi ringrazio Vi ringraziamo Alessandro Federico A voi Per le chiacchiere Grazie Grandissimo ospite Noi continueremo adesso Col pandoro Giovanni Alevi Alevi Paolo Grillo Grazie Ilaria Fantin Grazie alla nostra quota rosa Grazie Io sono Martino Non so perché mi presento Ciao Alla prossima Ciao Ragazzi scusate Dobbiamo registrare Un podcast Quindi scusate No vabbè Posso così Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti